Edoardo rappresenta i ricordi della mia infanzia, i miei nonni che l'amavano tanto, ma anche una grande espressione culturale di un autore che spesso è stato confinato a torto nella dimensione regionale, ma rappresenta uno dei grandi autori nazionali e ancora oggi quando lo rivediamo le sue opere a distanza, forse con maggiore maturità ci accorgiamo di quanto sia universale e importante il messaggio che ci lascia. La Napoli rappresenta un grande gioicimento culturale per il Paese e credo per il mondo intero e i riconoscimenti che stiamo avendo in queste ultime settimane con grandi eventi culturali, in questo caso un evento della RAI che poi andrà sulla rete nazionale e una conferma ulteriore di quanto la cultura sia importante a Napoli e di quanto noi dobbiamo fare per la cultura a Napoli, un grande impegno che cercheremo di onore la città e cercherà di onorare nel miglior modo possibile. Edoardo rappresenta una delle icone culturali della città e anche rappresenta per tutti noi anche un momento importante di riflessione rispetto a quella che è la nostra quotidianità, ma anche le tante problematiche che abbiamo davanti e che dobbiamo affrontare. Sicuramente anche quest'opera che viene rappresentata di Edoardo farà riflettere noi, farà riflettere tutti i telespettatori e sarà un'occasione anche di ricordo di una personalità così straordinaria come quella di Edoardo De Filippo.